Certamente, perché evidentemente Lazzolina non ha avuto la forza politica di imporsi, bisogna anche capire questo, cioè quanto conta, ma non è un'accusa Lazzolina, cioè è una critica a chi nel governo non ritiene che Lazzolina al di là dei suoi libidi, delle sue qualità, rappresenti un comparto essenziale per il presente e per il futuro di questo Paese. Però, voglio dire, in questo caso tutto il governo avrebbe dovuto dare una mano a Lazzolina, ma avrebbero dovuto darle anche, al di là del governo, l'opposizione, le regioni, perché noi parliamo sempre del governo e ci dimentichiamo che questo è un Paese che ha, fortunatamente, una struttura decisionale, articolata, vasta. Non so se fortunatamente, diciamo dopo le prove delle regioni di questa pandemia forse uno Stato... Diciamo che... Alla francese non si sarebbe... Non fortunatamente vedendo i profili di certi presidenti di regione, no? Ma noi salviamo... No, ma insomma... Guardando certe macchiette... Francia... Guardando certe macchiette, allora uno si pone il domani, però noi dobbiamo salvaguardare l'istituzione, no? E dobbiamo dire che l'istituzione dovrebbe funzionare. Detto questo, Bersani dice, attenzione che qui abbiamo il problema di ieri, dell'altro ieri, la diseguaglianza sociale. Ha ragione Stefano Feltri prima diceva, attenzione che rispetto alla crisi del 2009, un po' di coesione, no? Si è mantenuta anche attraverso gli interventi del governo. Ma come sarà ridotto il Paese se tra sei mesi siamo sempre ancora in una situazione di emergenza come quella attuale, rispetto alle cose che abbiamo visto?